I crepuscolari, i poeti crepuscolari. Chi sono questi poeti crepuscolari? Sono definiti così da un critico che vede nella loro poesia questo tono di malinconia, di chi non ha nulla da dire, di chi non ha nulla da fare, questo tono per l'appunto del crepuscolo, del tramonto, toni smorzati perché c'è la penombra, perché ci avviamo al tramonto della forza poetica, al tramonto di una certa società, di una civiltà letteraria. Li definisce così il critico Antonio Borgese commentando delle poesie di Marino Moretti a cui accenneremo dopo. Si può parlare di avanguardia? No, perché i crepuscolari non costituiscono un gruppo, non si danno un manifesto con delle linee guida da seguire, sono esperienze tutte diverse, tutte individuali, che però rispettano una certa atmosfera. Gli esiti della loro poesia sono simili. Questo movimento, questa corrente, mai sbagliato definirla così, si sviluppa circa, si sviluppa a inizio del Novecento, circa dal 1903 al 1911. Noi studieremo Corazzini e Gozzano, altri nomi sono appunto Moretti, già citato prima, e poi Govoni e Palazzeschi, ma Govoni e Palazzeschi presto si dirottano poi su altre tendenze, in particolare verso l'avanguardia futurista. Il futurismo sì che è stato un'avanguardia, lo vedremo. Allora, vediamo i poeti uno per uno, vediamo due testi e vediamo soprattutto alcuni titoli delle raccolte di questi poeti, perché vi fa capire il tono sommesso della poesia crepuscolare, vi fa capire che non hanno più nulla da spartire con Carducci, Pascoli, D'Annunzio, nulla da spartire con il sublime, con la forza della poesia, perché loro è un tono dimesso, loro vogliono andare contro quella tradizione, riconoscono che ormai per la loro società la poesia è inutile, la letteratura è inutile e utilizzano toni sommessi, vogliono raccontare l'umiltà della loro vita, vogliono raccontare la quotidianità delle cose, non vogliono il sublime, non vogliono essere il poeta bate, la guida della nazione, un esempio da seguire e questo viene fuori dai loro testi e lo vedremo. Il primo poeta che studiamo è Sergio Corazzini, vissuto pochissimo, appena 21 anni, poi malato di tubercolosi, muore e proprio attraverso la malattia lui si confronta con gli altri, col mondo che lo circonda. La malattia è l'unica cosa che rende il poeta come tutti gli altri, lo riporta nel mondo, quindi in lui è costante questo tema della malattia. Sentite i titoli, per me spiegano meglio delle mie parole la tendenza crepuscolare e l'opera di Corazzini, i titoli delle sue raccolte. La prima raccolta del 1904 è dolcezze. La seconda è piccolo libro inutile, quindi abbiamo due aggettivi per il libro che scrive, piccolo e inutile. Poi c'è elegia, cioè una poesia del soggetto, dell'interiorità, una poesia d'amore, ma molto soggettiva, molto intima. E poi abbiamo un libro per la sera della domenica, cioè quando proprio è finita la giornata, è finita la settimana, non c'è più niente da fare, la sera della domenica ecco che arriva il libro di Corazzini. Quindi vedete già dal titolo questa timidezza, questo non voler essere prevaricanti. La lettura è qualcosa di dolce, di intimo, di debole, di fragile da svolgersi alla sera della domenica. Ripeto, tutta la sua poesia tratta il tema della propria malattia, l'esperienza che però lo mette a contatto con la vita vera, la vita rimpianta. Sarà uno dei primi a nutrirsi di gioie semplici e tristezze comuni, poi ci sarà tutta una tendenza nel Novecento che, soprattutto nella poesia cosiddetta narrativa, nella poesia che mira all'autenticità e non all'artificio di D'Annunzio, ma alle cose autentiche. Vedremo più avanti Umberto Saba, quasi si autopsicanalizzerà pur di dire la verità. Gioie semplici, tristezze comuni, non si definisce nemmeno più un poeta. Questa è un'altra tendenza dei crepuscolari, rinnegare non solo l'importanza della poesia e della letteratura, ma anche del ruolo del poeta e si rinnega come poeta. Lui è soltanto, si definisce lui, un piccolo fanciullo che piange. Non ci soffermiamo su un altro crepuscolare che è Marino Moretti, ma che avete a fondo pagina 456, ma non solo è merito suo se tutti quei poeti si chiamano crepuscolari, perché appunto la definizione viene dal critico Antonio Borgese, proprio in seguito alla recensione di una sua raccolta. Ma sentite anche qui il titolo, Poesie scritte col lapis. 1910, che cos'è il lapis? È la matita, cioè sono poesie scritte a matita. La matita qual è? Che caratteristica ha la matita rispetto alla penna, rispetto all'inchiostro? Poter essere cancellata, quindi essere effimera. Questa poesia che può essere cancellata, non fondamentale, che non cambierà più la storia. È soltanto una piccola, intima consolazione per chi la scrive. Arriviamo, pagina sequente, al maggiore fra i crepuscolari, cioè Guido Gozzano. È il più importante. Si forma sulla filosofia di Schopenhauer, quindi pessimismo assoluto, e poi di Nice, quindi il nichilismo, quindi Dio è morto, quindi la vita non ha senso, ed esordisce anche qui nel 1907 con un titolo, una raccolta di poesie che ci dice moltissimo, la via del rifugio, cioè il rifugio nella poesia è per l'appunto un distaccarsi dalla mondanità, dalla realtà, dal mondo, da ciò che succede nella realtà, nelle cose che contano, per crearsi questo rifugio. Anche lui, malato di tubercolosi, morirà giovanissimo, e anche lui è contro, rifiuta completamente il modello d'Annunziano di poesia. I suoi motivi sono dei motivi borghesi, intimistici, e lui sì, che dirà la frase veramente, io mi vergogno di essere poeta, la vedremo, io non voglio più essere io. Tutto questo filone di negare il ruolo della poesia ci accompagnerà, ve lo ripeto ancora, per tutto il Novecento. Si pensi al discorso di Montale, quando ritira il Nobel, si chiede se ancora sia possibile fare poesia, e già è sempre Montale, lo vedremo, nella poesia non chiederci la parola, negherà ancora una volta il ruolo del poeta, dirà non chiederci la parola, cioè noi poeti non abbiamo più nulla da dire, da insegnare, non abbiamo più la capacità di leggere la realtà, non abbiamo più gli strumenti per decifrare la verità. Quindi la letteratura di Gozzano diventa la sua poesia per forza autoironica, perché dal momento che tu fai letteratura per negare la funzione della letteratura, fai una letteratura che sostiene l'inutilità della letteratura, per forza deve diventare ironico, o ancora di più autoironico. Però ha grande credibilità, non la mette mai in cacciara Gozzano, è molto colto. E come fa ad avere credibilità? Ironizza, sì, tratta dei temi borghesi, spiccioli, frivoli, sì, ma lo fa appoggiandosi alla metrica classica, dimostrando non solo di essere un grande poeta, ma anche di averle conoscenze per poter fare letteratura di grande livello, di alto livello. Guardate la scheda come riassume bene a fondo pagina. Qual è la poetica di Gozzano? Il rifiuto di dannunzio, l'abbiamo detto fin qui, vale per tutti i crepuscolari e vale per tantissima poesia del Novecento, la vergogna di essere poeta, l'inutilità della letteratura e poi si muove fra lo stile classico e l'abbassamento stilistico a fini ironici e soprattutto auto ironici. Tra l'altro Gozzano è di Torino, tanti luoghi, oltre a esserci via Gozzano, ma insomma tanti luoghi sono contraddistinti qui in città dalla sua presenza, da momenti della sua vita, compresa la conoscenza delle opere di Nietzsche. Voi sapete che il filosofo, l'importantissimo filosofo, ha trascorso un periodo della sua vita qui a Torino, dove è definitivamente impazzito. Allora, Sergio Corazzini, pagina 458, Desolazione del povero poeta sentimentale, tratto da piccolo libro inutile. Quindi scrive un libro che lui stesso definisce piccolo e inutile. Noi ci chiederemo cosa lo scrivi a fare, eppure lo scrive, eppure con tutte le premesse fatte riesce a commuoverci. Lui è in questo sanatorio a Nettuno, vicino diciamo Roma, nel Lazio, malato di tubercolosi, sa di stare per morire, pensate poverino, ha soli 21 anni, pensate cosa altro ci avrebbe potuto regalare, e scrive questa poesia. Sentite questi versi che vi leggo, come ci spiegano tutto quello che abbiamo detto finora. Perché tu mi dici poeta? Io non sono un poeta, io non sono che un piccolo fanciullo che piange, vedi, non ho che lacrime da offrire al silenzio. Perché tu mi dici poeta? Cioè vedete, chiede all'interlocutore, al lettore, di non chiamarlo poi, guarda non sono un poeta, sono soltanto un piccolo fanciullo, un bambino che piange. E attenzione che è bello questo verso. Non ho che lacrime, quindi non ho parole, ma ho soltanto lacrime, ma non nemmeno da descrivere, da scrivere, da trasmettere, da comunicare, no, le ho da offrire al silenzio. Questa lettera maiuscola, se pensate che Corazzini sta per morire, così giovane, ci fa venire un brivido, perché il silenzio vero è il silenzio eterno. Le mie tristezze sono povere tristezze comuni, le mie gioie furono semplici, semplici così, che se io dovessi confessarle a te, arrossirei. Anche qui vedete l'abbassamento dei toni rispetto al sublime, all'artificio, ai fuochi d'artificio della poesia di D'Annunzio, al linguaggio ricercato, alla rarità, alla preziosità. No, lui dice, guarda, le mie gioie sono semplici, le mie tristezze comuni. Se te le dovessi confessare, arrossirei, mi vergogno. Vedete questo tema della vergogna di scrivere, di fare versi, di essere poeta. Io voglio morire solamente perché sono stanco. Vedete anche qui nella volontà di morire non c'è eroismo, non c'è la morte liberatoria, la morte da eroe. No, non c'è il titanismo della poesia romantica. Assolutamente no. Lo dice, ce lo confida, vuole morire solamente perché è stanco, non ce la fa più a combattere. E ancora dal verso 19, oh non maravigliarti della mia tristezza e non domandarmi. Io non saprei dirti che parole così vane, Dio mio, così vane che mi verrebbe da piangere come se fossi per morire. Attenzione, anticipa il montale, vi ho detto prima, di non chiedermi, non chiederci a noi poeti la parola. Il montale dirà tutto quello che posso dirti è ciò che non siamo, ciò che non vogliamo. Non domandarmi perché io non saprei che dirti parole vane, cioè inutili. Mi raccomando, andate fino alla fine, versi finali di nuovo ancora. Io non so, Dio mio, che morire. Amen. Quasi una preghiera detta da un bambino spaventato, molto molto intima, il buon povero Sergio Corazzini. E poi andiamo a Gozzano, la signorina felicita, ovvero la felicità. Tratta dai Colloqui, pagina 464, il libro taglia alcune parti perché è una poesia molto lunga. Racconta questo suo innamoramento, questo suo rapporto con questa signorina felicita, che rappresenta tutto quello che lui non è. Lei è una poveretta, una ragazza semplice e lui vorrebbe stare con lei. Poi è costretto a partire per l'appunto andare, come fanno gli uccelli migratori, al caldo perché così cura meglio la sua tisi, la sua tubercolosi. Costretto a partire, i due si devono lasciare, si devono separare. Ma la cosa non avrebbe funzionato lo stesso perché questa signorina così semplice, così, se volete, ignorante, detto in modo ingenuo, per carità, senza nessuna accezione negativa, rappresenta la vita, la vita vera, reale e non ha nulla a che fare con Gozzano, che ha studiato, che è filosofo e appassionato di filosofia, che conosce Schopenhauer e Nietzsche, che scrive, che è poeta, che ha la consapevolezza della inutilità del suo ruolo, delle sue passioni, della sua letteratura. Leggiamo questi versi dal verso 296. Unire la mia sorte alla tua sorte, per sempre, nella casa centenaria, ah, con te forse, piccola consorte vivace, trasparente come l'aria, rinnegherei la fede letteraria che fa la vita simile alla morte. Vedete, questa tendenza ci sarà per tutto il Novecento di non voler essere poeti, di voler essere un uomo qualunque, piuttosto di stare bene con te, questa ragazza trasparente come l'aria, piuttosto che essere poeti, perché la letteratura rende la vita simile alla morte. Troppa consapevolezza non lo lascia vivere. Oh, questa vita sterile, di sogno, meglio la vita ruvida, concreta, del buon mercante inteso alla moneta, meglio andare sferzati dal bisogno, ma vivere di vita. Io mi vergogno, sì, mi vergogno, d'essere un poeta. E qui ce lo dice chiaramente. Vi immaginate un dannunzio vergognarsi di essere poeta, ma quando mai? Era un vanto, era una missione. L'invidia per questa ragazza, sentite. Tu non fai versi, tagli le camicie per tuo padre, hai fatta la seconda classe, t'han detto che la terra è tonda, ma tu non credi. E non mediti, dice, mi piaci, mi faresti più felice di un intellettuale gemebonda. Nel frattempo sentite quante rime al mezzo, la metrica è ricercata e rispettata alla grande, i risultati stilistici, scusate, sono altissimi. Mi piaci, mi faresti più felice di un intellettuale gemebonda. Cioè, Gozzano ha bisogno di realtà, di cose terra terra, semplici, ingenue. Tu ignori questo male che si apprende in noi, tu vivi i tuoi giorni modesti tutta beata nelle tue faccende, mi piaci. Penso che leggendo questi miei versi tuoi, che bello questo passaggio, i miei versi tuoi. Non mi comprenderesti, e a me piace chi non mi comprende. E io, qua, ragazzi, questi sono da scolpire sulle tavole della legge della poesia del Novecento, eh? Questo è da scriverci in camera, da tatuarci sulla pelle. E io non voglio più essere io, non più l'esteta gelido, il sofista, ma vivere nel tuo borgo natio, ma vivere alla piccola conquista mercanteggiando placido, in oblio, come tuo padre, come il farmacista. E io non voglio più essere io. Vedete? Anela una vita borghese, senza sofisticazioni, senza essere un sofista, cioè un filosofo, senza essere un esteta. Vuole vivere lì, nel suo borgo natio, nel paesino di questa ragazza, mercanteggiando, cioè facendo il commerciante vivere per i soldi, per quelle piccole pulsioni che muovono la borghesia, come tuo padre, come il farmacista, stare al paesino. Io non voglio più essere io. Questo verso di Gozzano contraddistingue non solo tutta la poesia, praticamente, non diciamo tutta, ma praticamente tutta la poesia del Novecento, ma contraddistingue lo stato d'animo di tutti gli uomini sensibili, non solo alla letteratura o alla poesia o all'arte, ma di animo sensibile che guardandosi intorno, guardando la società di massa, guardando ciò che muove il mondo oggi, dicono, preferirebbero essere altro, essere un semplice piccolo borghese dedito al lavoro e alla ricerca del denaro e ai piccoli egoismi personali, e dicono, tra sé e sé, maledicendo lo studio, la sensibilità, la conoscenza, dicono, io non voglio più essere io.